Si avvicina il ponte di Ogni Santi e la commemorazione dei defunti. In questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il sindaco Giovanni Palomba ha preso la sua decisione, cimitero aperto a Torre del Greco. Una questione che da giorni era l'attenzione dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino però è stato chiaro nel ribadire che si dovranno rigorosamente rispettare le distanze di sicurezza e le indicazioni del personale sul posto. Sabato il cimitero rimarrà aperto dalle 7 alle 17, così anche domenica 7 alle 17, lunedì il 2 che doveva essere chiuso alle 13, anche lunedì dalle 7 alle 17. Tranne se non c'è qualche altra chiusura a carattere regionale o nazionale, per quanto riguarda Torre del Greco, il cimitero sarà aperto. Abbiamo una collaborazione di tre associazioni di volontariato, i quali coordineranno i flussi. I flussi saranno che via del cimitero verrà divisa a scendere sul lato sinistro e quindi entrare sulla prima entrata del cimitero e poi salire sul lato sinistro. Vi dico subito, la cosa più importante è che chiedo mascherine e distanziamento e poi per le persone anziane o per coloro che hanno delle patologie, logicamente evitare, noi siamo alla fine medici e infermieri di noi stessi. Al di là se qualcuno ci deve dire la mascherina, tenerla o non tenerla, ormai abbiamo capito che praticamente cosa serve a meno per evitare di poter entrare in quelli che poi sono gli asintomatici. Intanto il dirigente della Polizia Locale, Protezione Civile, Salvatore Visone, ha predisposto un divieto di circolazione dei veicoli in via del cimitero, il tratto da via nazionale all'ingresso del cimitero, e un divieto di sosta con rimozione coatta in via San Giuseppe alle Paludi. L'ingresso al cimitero sarà consentito attraverso un particolare circuito, indicato da un'apposita segnaletica che disciplinerà gli accessi e sarà previsto soltanto dal varco cosiddetto monumentale e l'uscita è prevista dal varco nuovo. Di diverso avviso il presidente della regione Campania, Vincenzo Di Luca, che dopo il meeting con l'unità di crisi della regione Campania e l'Anci Campania, al fine di evitare assembramenti nei giorni 1 e 2 novembre 2020, raccomanda fortemente la chiusura dei cimiteri nei comuni campani.